Buongiorno e buon lavoro. Sono Tony Quattrone, porto il saluto dei meridionalisti democratici ai partecipanti al Congresso delle Organizzazioni Aderenti ad Autonomie e Ambiente. Il nostro movimento è nato nel 2012 nella tradizione del meridionalismo repubblicano con forti accento europeista e federalista. Abbiamo come finalità la rinascita e rilancio materiale, culturale e morale di quelli che furono i territori delle due Sicilie. La nostra azione politica è ispirata alla democrazia partecipata e ai principi della tolleranza e della non-violenza, sia verbale sia fisica. Siamo federalisti europei nello spirito del Manifesto di Ventotene. Miriamo al superamento degli stati nazionali che tanti danni hanno causato all'Europa dei popoli. Il nostro federalismo è solidale. Il rispetto della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia di ogni popolo funge da faro nel nostro agire, nell'ambito del federalismo e nel rispetto delle autonomie. Ovviamente siamo per l'autodeterminazione dei popoli. Siamo per un'Europa solidale che rispetti le libertà dell'individuo, dello Stato di diritto, delle pari opportunità di tutti i cittadini. Siamo per la libertà di impresa mediata dalla tutela che lo Stato deve mettere in atto nei confronti dei soggetti più deboli. Siamo per la separazione fra Stato e Chiesa e nel rispetto dell'ambiente e di tutte le specie animali. Il nostro movimento crede che la rinascita e il rilancio del Sud debba passare attraverso la valorizzazione sia delle risorse umane sia di quelle naturali. Quando si parla di risorse umane è necessario porre l'accento sul rispetto delle libertà individuali, superando le disuguaglianze sociali, garantendo la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno e abolendo qualsiasi pregiudizio o discriminazione, secondo il sesso, religione, provenienza nazionale, etnica e così via. Poniamo un forte accento sull'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che tratta l'uguaglianza sia in senso formale sia in quello sostanziale. In questo contesto per noi la diversità è un bene fondamentale di una società moderna e inclusiva e pertanto vogliamo che siano rimossi gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle uguaglianze sostanziali rispetto a quelle formali. Di pari passo siamo per la difesa della natura e sosteniamo la necessità dell'uso responsabile delle risorse naturali e storico-artistiche, mediante un modello di economia eco-compatibile, rivolta alla promozione del consumo di beni culturali e relazionali. Per far questo pensiamo che sia fondamentale arrivare a una gestione a livello locale delle risorse territoriali, attualmente amministrate dallo Stato nazionale. Il nostro agire politico mira alla rinascita e al rilancio del Sud attraverso due principali attività. Da un lato vogliamo diventare forza di governo del territorio, partecipando alle attività elettive previste dall'ordinamento repubblicano e pertanto siamo impegnati nelle competizioni elettorali dai comuni alle regioni. Dall'altro, indipendentemente dalla nostra presenza nelle istituzioni, miriamo ad esercitare la giusta pressione su chi ci governa, affinché si facciano politiche indirizzate alla rinascita dei nostri territori. Fra i nostri obiettivi miriamo all'aumento del reddito netto pro capite dei cittadini del Sud, alla riduzione del tasso di disoccupazione, in particolare quella femminile e giovanile, all'incremento del tasso di scolarizzazione di base e secondaria avanzata, all'incremento delle infrastrutture civili. Miriamo all'incremento del numero delle imprese operanti nel Sud e di quelle con sede legale al Sud. Miriamo alla riduzione dell'emigrazione e all'aumento del ritorno degli emigrati. Ovviamente miriamo anche alla riduzione degli eventi criminali documentati dalle forze dell'ordine. Vogliamo la costituzione in società finanziarie, anche in forma cooperativa, con sedi nel Sud e che investano prevalentemente nel Sud. Miriamo all'aumento dell'esportazione dei nostri prodotti, alla piena attuazione dei piani di sviluppo europei per il mezzogiorno e al miglioramento dello Stato, della salute e dell'ambiente. Miriamo all'incremento del tasso di benessere e felicità delle popolazioni dei nostri territori, secondo misurazioni di dati statisticamente condivisi. Miriamo la creazione di una macro-regione meridionale all'interno di un'Europa federale in piena sintonia con quanto permesso e previsto dalla Costituzione Repubblicana. I meridionisti democratici auguro buon lavoro a tutti, nella speranza che possiamo fare tanta strada assieme per l'emancipazione dei nostri popoli e per il raggiungimento degli obiettivi legati al federalismo solidale. Buon lavoro e grazie.